benvenuti nel video per canale agenzie amore e oggi parliamo di come funzionano i viaggi per single in russia o in ucraina agenzia amore è nata come agenzia internazionale per la sola presentazione di donne residenti in russia ucraina e lettonia siamo operativi per aiutare i single italiani dalla fine del 2016 fino ad oggi circa 35.000 uomini si sono registrati presso la nostra agenzia virtuale in lettonia allo stato attuale moltissimi ragazzi moltissimi uomini sono veramente interessati a trovare le ragazze nei paesi come russia ucraina o comunque paesi dell'est scopriamo come funziona il viaggio per esempio in russia è molto semplice perché agenzia amore collabora con varie agenzie matrimoniali presenti all'estero e una volta che il cliente accetterà un'offerta di preventivo per il suo viaggio i nostri partner esteri organizzano tutto al 100 per cento il cliente uomo può vedere le donne che conoscerà e potrà scegliere dove incontrarle per esempio al bar al ristorante al parco eccetera diranno organizzati almeno quattro incontri conoscitivi con quattro donne diverse una cosa importante da dire è che le donne vedranno come prima la scheda del cliente e quindi saranno donne stesse già interessate di conoscere la persona che verrà adesso online ci sono moltissime offerte per questi viaggi per single ma vi consigliamo di fare molta molta attenzione e rivolgervi solo ad agenzie come agenzie amore in quanto avrete un bel vantaggio potrete avere delle consulenze iniziali gratuite nella vostra lingua e soprattutto dall'italia non dovrete pagare tutto il viaggio subito e potrete sapere chi conoscerete prima di partire un'altra cosa molto positiva è che non ci saranno incontri al buio quello che dovete fare adesso è cliccare il link qui sotto parlare con un consulente in italia farti fare il profilo gratis e richiedere un preventivo per il tuo viaggio in russia o in ucraina buona fortuna ti aspetto